Quello che ha detto la DG Rolamo è impossibile credere, ma soprattutto dopo che uno ha sentito le intercettazioni. Sono vent'anni che questi politici corrotti, collusi, vengono scoperti e alla fine cosa ci dicono? Non c'entrava niente, sono state estrapolate frasi da un discorso più complicato. Non ci crediamo, ma non è che non ci crede il Movimento 5 Stelle, non ci credono più i cittadini italiani.